Come viene definita la sindrome fibromialgica? La sindrome fibromialgica è una delle patologie più frequenti nell'area reumatologica perché noi sappiamo che da noi spesso il paziente viene per un problema di dolore. A volte il dolore è localizzato in una singola articolazione, ma esistono dei pazienti che vengono da noi perché la sintomatologia dolorosa comprende e interessa tutto il corpo, in particolare tutto il sistema muscolo-scheletrico, che è un dolore cronico diffuso che persiste nel tempo e che per noi viene in qualche modo definita sindrome fibromialgica. Così significa sindrome fibromialgica? Significa proprio un dolore che coinvolge tutte le strutture muscolo-scheletriche. È un termine a volte che può essere considerato non così preciso, ma forse è il termine migliore che abbiamo in questo momento per esprimere la sintomatologia di un paziente che riferisce dolore muscolo-scheletrico diffuso ma anche un'alterazione del sonno, ad esempio al mattino si sente ancora stanco, una stanchezza durante la giornata perché fa fatica a svolgere le normali attività di vita quotidiana, di attività lavorative, relazionali, e a volte anche un disturbo neurocognitivo con soprattutto difficoltà nella memoria a breve termine e nell'affluenza del linguaggio. Si tratta di una patologia diffusa? È una patologia frequente. In effetti gli studi epidemiologici parlano di un 2-3% della popolazione. Colpisce prevalentemente il sesso femminile, il rapporto è intorno ai 7-8-1, cioè per cui una netta prevalenza femminile, ed è spesso una patologia che ha il suo picco di severità nel periodo di attività lavorativa, dai 30 ai 50 anni, cioè nel periodo in cui l'individuo ha chiesto il maggior sforzo sociale, familiare e lavorativo. È una patologia che gradualmente viene sempre più conosciuta e riconosciuta sia dagli specialisti che si occupano di apparato muscolo-scheletrico, sia anche dai medici di medicina generale che pian pianino imparano a diagnosticare questa patologia, mandarcela, ad esempio in ambiente specialistico, in maniera propria e corretta. È chiaro che esiste una quota dei pazienti a cui non viene diagnosticato, viene diagnosticata molto tardi, e questo ovviamente può essere un problema, oppure a situazioni in cui viene fatta una sovradiagnosi. Siccome non capisce esattamente cosa apre il paziente, ha dei sintomi magari specifici, febbricola, dolore muscolare, un po' di stanchezza, e a volte ci vengono inviati dei pazienti con una diagnosi di fibromialgia che magari hanno una sindrome paraneoplastica o hanno un linfoma o un'altra malattia autoimmune, per cui bisogna sempre stare attenti nel momento in cui tu devi definire la diagnosi di fibromialgia che sia una diagnosi di esclusione, cioè che tu escluda altre patologie organiche che a volte possono assomigliare nel proprio decorso sintomatologico alla fibromialgia stessa. Grazie.